Dalle 14.30 di oggi lo screening di massa è anche a Pescara, tre le postazioni allestite nel capoluogo adriatico dove potersi sottoporre gratuitamente al test rapido, al pattinodromo di Pescaracolli, a Pescara Fiere in Via Tirino e alla stazione di Porta Nuova. C'è stato un boom di prenotazione anche sull'onda emotiva della potenziale, speriamo che non ci sia terza ondata dei contagi e quindi la macchina amministrativa, composta ovviamente dalla protezione civile in primis, dal comune di Pescara con i propri dipendenti, il COC in prima linea per effettuare anche le prenotazioni online perché possono essere fatte sia online ma anche telefonicamente, si è mossa insieme alla Croce Rossa e tutta una serie di altri volontari, insieme alla ASLO ovviamente, per poter dare una risposta massiccia a questo screening che ha l'obiettivo di andare a isolare quelli che sono potenziali contagi da parte anche magari di asintomatici che dovessero risultare da questi test rapidi. Risolto il problema di individuare volontari tra il personale sanitario, si calcola che saranno oltre 1100 i test effettuati ogni giorno, il cui esito, se positivo, sarà comunicato nel giro di tre ore. In caso di positività occorrerà sottoporsi nuovamente a tampone, questa volta molecolare, che se dovesse confermare il contagio sarà inserito nel conteggio del giornaliero bollettino regionale. Per assicurare un corretto svolgimento dello screening, il Comune ha deciso di ricorrere a prenotazioni sul proprio sito web e non si esclude, se ci fosse un'alta partecipazione, di posticipare il termine dell'iniziativa. Andiamo avanti con le prenotazioni perché attraverso le prenotazioni riusciamo a dare un flusso regolato di ingresso, vediamo gli altri giorni, sabato e domenica, come andranno le prenotazioni. Nell'eventualità c'era anche l'ipotesi di poter aprire a tutti, ma lo decideremo solamente nei prossimi giorni quando avremo un impatto delle persone che avranno aderito alla prenotazione compiuta. Grazie a tutti.